Un'ultima domanda legata invece a questo format, una tua riflessione come sempre franca e diretta su questo lavoro che stiamo facendo. Quando si discute, quando si parla e quando si ha la possibilità di discutere anche in maniera franca con le persone è sempre una cosa positiva. Io parlando tutta la settimana tra radio e televisione spesso giro per discutere, anche perché si discute in modo diverso rispetto a quello della televisione, per cui va benissimo. E' molto interessante anche cambiare nella tipologia di persone che invitate, che non è connotata in un modo o nell'altro, ma invitate chi volete voi e questo mi sembra la cosa più importante. Grande fece, sono stato bene, grande organizzazione, grande discussione. Grazie 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 Grazie